musica 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 avanti upla io ti vedo ah si si adesso a destra e sotto qua adesso sto qua più o meno ci siamo Giorgio Valerio ciao allora aspetta che qua adesso siamo abituati con il cambio normale mi schiacci il freno? sono già sul pieno allora possiamo andare vai pure ok qua mi esci piano piano che guarda se non arriva nessuno assolutamente eh aspetta fermati vai si aspetta che mi devo eh questa spinta no la devo abituare io a questa confezione eh metti già terza mi senti anche la coppia comincia a frenare ah poi ci sposto già entra un attimo eh però bisogna premere una certa forza si ma poi ci sembra che togliamo Napoli eh eh vai devi aver fatto un attimo finchè non riesco a capire ma io non ho paura tranquillo io sono qua seduto aiutami no vai vai passa ok qua frena dolce gira adesso diritto vai metti terza vai la bocca a destra ma vai ok comincia a togliere dolce cosa c'era ma potrei anche lasciare terza vai vieni vieni frena appena appena ok il gas costante il gas costante la lascia andare sulla sinistra la lascia andare in là no perché devo chiudere qua per uscire perché devo chiudere qua per uscire è così di traiettoria si esatto stai lì comincia a frenare comincia a frenare intanto taglia vai vai lasciala andare in là ok taglia intanto lasciala scorrere è il sistema che fa anche la doppietta se non si impunta frena appena appena intanto chiudi aspetta adesso puoi iniziare a dare gas portafogli ti aiuta io frenerei eh si adesso puoi frenerei da tu sciampi devo dire la verità ha aiutato tanto anche dentro treno quel discorso della frenata qua perché ero un po' impiccato in realtà con altre macchine perché subito ho tol 4.8 motrici questo è tutto l'altro mondo poi qua si infatti infatti ho 155 V4 ma sui tempi è una gran macchina eh spero che sia ancora se mi posso permettere il dubbio 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 è giù che Grazie per la visione!